Una carriera molto aiutata. Per esempio, il soprano finlandese Aino Akte, 1876-1944, era figlia di Lorenz Nikolai Akte, baritono e direttore d'orchestra, e del soprano Emmi Akte. Perché? Aino ebbe il vantaggio di studiare con la madre e poi a Parigi con Duvernois, che le fu presentato dal padre. Debuttò all'Opera di Parigi, si esibì al Metropolitan di New York e in Inghilterra. Ebbe una carriera molto aiutata dal padre e dalla madre. Perché? Commento. Perché non a caso si nasce e spesso si rinasce in una famiglia o in un ambiente evolutivo che ha i nostri stessi interessi. I codici del nascituro invocano i codici dei genitori e i codici misti dei genitori invocano i codici del nascituro. Chi è pronto può ascoltare la voce della legge che è nel suo intimo e si chiama coscienza. Grazie. 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 Grazie.